Voi avete la responsabilità, insieme con altri, di aver messo l'Italia nelle mani di quelli che hanno chiamato i figli Apasce e Geroni. Voi! Nessuno che abbia avuto l'onestà intellettuale di farsi un'autocritica. Sono dieci anni che vi sto dicendo che la domanda che pongono a me i cittadini è per quale motivo devo votare per quel partito. Dammi un motivo, una proposta programmatica. Ancora oggi noi stiamo in una situazione per la quale se voi chiedete a un cittadino normale, quindi noi rischiamo di rappresentare come PD la migliore assicurazione sulla vita per Giorgia Meloni.